... Incidente nella strada di domenica 15 dicembre intorno alle 18 in Borgata Carabaglia a Fabria. A scontrarsi due vetture, una Fiat Panda con a bordo una donna di 49 anni e la figlia di 20, residenti a Fabria, e una Fiat 500 L condotta da una donna di Vauda. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Rivarolo Canavese e Castellamonte, i vigili del fuoco di Castellamonte e i carabinieri. L'impatto è stato alquanto violento e la Panda si è ribaltata adagiandosi su un fianco. Tutte e tre le donne sono state soccorse e sanitari. Madre e figlia sono state trasportate all'ospedale di Cerie, non sono in pericolo di vita. ...illesa alla donna sulla 500, accertamenti in corso sulla dinamica. Sì. 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 Sì.